il quinto giorno di smart working mamma 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 cosa c'è? ha fame? prenditi una merendina mamma mamma posso andare a fare la cacca? eh vai a farla devi chiedermelo mamma per favore sto cercando di lavorare mamma mi viene a pulire il culo? ehi cosa fai con un uovo e con l'aceto? devo fare un esperimento con il libro degli esperimenti mamma ha fatto la cacca che strano secondo il libro non doveva romperci mamma dove stai andando con i fiammiferi e con l'alcol? devo fare un altro esperimento mamma il gatto sta male sta vomitando vomita l'erba? no il detertivo che gli ho fatto bere ehi cos'è questo schifo? è la mia cacca si ha lasciato il rubinetto aperto viena ciao romualda ah beata te che sei a casa e ti puoi godere i tuoi meravigliosi bambini poveretti eh già un'altra famiglia vittima del virus a Grazie a tutti.